Oggi, parlando con qualcuno, mi ha detto che la Scozia è conosciuta come un paese montuoso. Quale sarebbe, secondo te, la montagna più alta in Scozia? Beh, non lo so, credo che siano sui mille metri. Mille metri? Beh, io sono stato sulle montagne rocciose, che sono abbastanza più alte, e ti posso dire che sono stato impressionato dalla bellezza e dalla grandezza di queste montagne, pur non essendo in Malaya. Sì, voglio dire che le belle montagne non hanno nulla a che fare con la loro altitudine. Alcune delle montagne più belle del mondo sono alte 2 o 4 mila metri. Tutto ciò che fa l'altitudine è rendere più difficile la scalata a causa della mancanza di ossigeno. Voglio ricordare che in Malaya il limite delle foreste è circa 3 o 4 mila metri. In Nord America ci sono montagne che sono alte invece, quell'altitudine. Quindi dipende dai punti di vista. Se venite in Nuova Zelanda, la linea delle foreste è di soli 500 metri. Quindi se si scala una montagna di 2 mila metri, è una difficoltà considerevole. E lo stesso si applicherebbe in Sud America, dove gli alti piani arrivano fino a 5 mila metri. Quindi è tutto relativo. Ciò che fa la differenza nelle scalate, in questi casi, è l'altitudine, e non la grandezza della montagna. Grazie. 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 Grazie.